Francesco Birrallo è il nuovo presidente del Kiwanis Club di Alcamo per l'anno sociale 2020-2021. Prende il posto di Silvana Giacone che durante i suoi due anni di presidenza ha portato avanti iniziative di notevole prestigio che hanno riscosso applauso da tutti i club Kiwaniani e non solo della Sicilia. Il riconoscimento delle sue capacità è stata nominata a Cia Distrettuale per l'Autismo del Centro Sud d'Italia e responsabile dei grandi eventi per la Sicilia occidentale. Nel corso della cerimonia del passaggio della campana Silvana Giacone ha conferito una targa a Giuseppe Maniscalchi per i servizi giornalistici sul giornale di Sicilia e non solo. E va sottolineato che Maniscalchi da sempre fa parte della redazione della nostra emittente Alpa 1. Il nuovo direttivo è composto da Francesco Impellizzeri, Andrea Marrone, Francesco Parrino, Enzalo Monaco e dal pass presidente Silvana Giacone. Consiglieri Mario Barbara, Girolamo Messana, Piero Amore, Giussi Ferrara, prossimo presidente e Norino Provenzano. Presenti i presidenti di numerosi club service nel programma di Pirrallo al primo posto iniziativa a favore dei bambini. Ed è questo l'argomento forte di tale club. Alla cerimonia presenti autorità chiuaniane di tutta la provincia, i sindaci di Alcamo, Domenico Surdi e Castellammare e Nicola Rizzo che hanno parlato dell'importanza del ruolo dei club service con i quali intendono intensificare rapporti di collaborazione tra le istituzioni e privati che operano nel sociale. Nel suo indirizzo di salute, nel tracciare il bilancio positivo, Silvana Giacone ha sottolineato che sono stati due anni difficili, unici e faticosi. La pandemia da Covid-19 ha stravolto il canerendario delle nostre tradizionali attività, ma da bravi chiuaniani non ci siamo spaventati. Non abbiamo mollato la presa, ha concluso Silvana Giacone, e credo di poter dire che abbiamo contratto importanti traguardi. Tra le numerose attività della Giacone, la donazione di visiera al Policlinico di Palermo, detergente all'ospedale di Alcamo e alla Mangione durante il periodo della prima ondata da Covid-19. Ha promosso numerosi convegni, tra i quali sulla violenza delle donne, il bullismo e epilessia, sui diritti dell'infanzia, ambiente e clima. Attenzione per i giovani talenti, ha conferito un premio al calciatore Gabriele Alesi, classe 2004, che già col Milan partecipa al campionato Primavera. E Silvana Giacone, con ottima scelta, ha conferito il premio dell'anno Chiuaniano, dal Camesi di caratura internazionale, come il compianto artista Turisimeti. E di recente alla scienziata Violette in Pellizzeri. E poi, come non sottolineare, la messa in suffraggio sotto Natale alla Chiesa Madre dei morti di Covid, aiuti ai bambini dello Yemen, alla Caritas di Alcamo e raccolta fondi per l'associazione Palma Vite di Castelvetrano. Altra parla della Giacone, essersi fatta altro carico di organizzare la cerimonia del concorso nazionale, la scuola che vorrai, promosso dal Kiwanis Club, vinto dal Plesso Europa di Alcamo. Ai bambini, sotto la regia dell'insegnante Miriam Avila, è stato donato un parco giochi. Un omaggio anche al piccolo pianista Alcamesi Alessandro Piccicala, raccolta fondi per donare il defibrillatore, l'associazione Sclerosi Multipla Sacro Cuore. Con una commedia recitata dagli attori del piccolo teatro, grazie alla sensibilità del direttore artistico e regista Franco Regina. In una brochure corredata dalle foto, le attività portate avanti da Silvana Giacone, che ha portato in alto il nome del Kiwanis, ha rivolto un particolare ringraziamento ad Enrico Alagna, Vincenzo Cammisa e Girolamo Messana. La presidente uscente ha ringraziato anche le emittenti e i giornali che operano nel territorio.